ciao ragazzi buongiorno a tutti in questo video come promesso andiamo a parlare di working dead ma prima di andare a parlare del fumetto voglio fare una piccola sorpresa quindi ma fare un taglio e ci vediamo subito dopo ecco la sorpresa la seconda volta vi mostro la mia intera faccia ovviamente a volto coperto perché non è ancora arrivato il momento di svelare la mia vera faccia bene ciò pure le cuffie per dare anche quel tono di più da youtuber fate che siamo di caldo allora comunque doveva parlare del fumetto vero non leggo un cazzo perché si fanno apprendito cosa blu la telecamera si sta pure muovendo perché ho le cuffie attaccate una palla verso e sinistra per questo lo stare fermo allora come già detto questo fumetto sta a 2 euro e 50 in edicola su internet non so se si trova penso di sì non so il prezzo non lo so andavo a vedere e il volume 49 della sald press il titolo di questo capitolo è chiamata alle armi rispetto io la trama direttamente allora voi lo sapete voi avete visto le stagioni di working dead e bene o male sono sono arrivati allo stesso capitolo questo qua però quello che ho notato io che c'è rick che è proprio vecchio e zoppo e ha perso un braccio infatti qua si vede ma vi mando un'immagine però così fate un'idea del rick invecchiato in questa immagine si vede rick che perde il braccio e viene tagliato dal governatore il primo incontro ok e a ma lui deve addestrare un esercito per combattere un ordine che si chiama l'ordine dei sussurratori che merica sono persone scoppiate in testa che sono fanatici riguardo gli zumbi hanno il culto degli zumbi diciamo così una religione tutta loro riguardo gli zumbi che sono persone reincarnate e quindi loro che cosa fanno cucinano gli zumbi e si prendono gli scuolano e si prendono la loro pelle perché accede maschere che se la mettono in faccia e secondo loro fare questo fatto da gli da più forza 1 e da più forza 2 di far reincarnare a loro volta non capita che si prendono solamente l'infezione e rimangono non morti e allora rick ha deciso di fondare questo esercito per combattere gli sussurratori ora però lui il figlio è rischiato di rimanere ucciso in un conflitto a fuoco con il gruppo dei salvatori adesso i salvatori e rick sono alleati perché rick ha ucciso il leader dei salvatori non ricordo il nome il leader dei salvatori l'ha ucciso e ha preso lui il comando perché il ex leader dei salvatori che ovviamente è stato ucciso governava con tirannia e per questo ha deciso di prendere lui il potere e di far sì che i salvatori si alleassero con lui ora però che è successo che succede mentre a destra le truppe ha carenza di munizioni e per questo cerca aiuto al di fuori al di fuori delle cinta delle mure di cinta e al di fuori dei salvatori stessi e mette appunto una rete di comunicazione usando una radio vecchia della seconda guerra mondiale che aggiusta si mette in contatto con una ragazza che non si sa di dove precisamente infatti non gli vuole dare tante informazioni per semplice fatto che non sa dall'altro lato chi c'è quindi è meglio evitare i siti si scambiano solamente le informazioni del numero di persone di cui fanno loro parte il gruppo e dall'altra parte la ragazza la stessa cosa allora la ragazza fa parte di circa di un gruppo di 150 persone invece Rick 50 però la cosa brutta è che hanno mancanza di cibo il gruppo di Rick quindi è impreparato ad affrontare una guerra e quindi chiedono aiuto a questa ragazza però non gli vuole dare informazioni prima si vuole ottenere la sua fiducia da entrambe le parti quindi che succede al finale mi è liberato questa persona qua che sta qui sopra è un prigioniero che viene liberato dal figlio dei salvatori il figlio dei salvatori per il figlio dell'idea dei salvatori chiamato anche figlio dei salvatori è un bambino di circa 17 anni che ha liberato questo quest'uomo interpreto non si chiama è sfregiato ma perché lui è un ex militare ed era già stato sfregiato in precedenza prima che avvisse l'apocalisse zubi e comunque il si il fumetto si conclude che interpreta non riesce a fuggire da Rick e si dirige dai sussurratori per riferirgli che Rick sta preparando un esercito per affrontarli perché Rick voleva sfruttare effetto sorpresa ma adesso che lo sanno i sussurratori si prepareranno al massimo e ragazzi io voglio sperare questo video vi sia piaciuto ovviamente è stato breve ma perché è proprio piccolo il fumetto è semplice fatto che ci sono dieci pagine all'inizio che spoilerano tutto il capitolo poi fanno le presentazioni personaggi e via dicendo al finale spoilerano il capitolo successivo di altri dieci pagine quindi sono trenta pagine solamente il fumetto dieci pagine che vi spoilerano i personaggi e vi fa poco il capitolo di quello che è il capitolo contenuto in questo fumetto al finale vi spoilerano il capitolo successivo e vi introduci i miei personaggi quindi sono trenta più venti cinquanta cinquanta pagine che onestà mi aspettavo di più sono rimasto io deluso ma lo deluso onestamente lo c'è travi fuori dalla finestra e comunque io chiudo qua se il video vi è piaciuto commentate se il video vi è piaciuto